Buongiorno a tutti. Dico subito che io mi sento in questo momento un ospite chiamato a facilitare l'introduzione di una vostra riunione che l'amico Franco ha giustamente voluto chiamare non congresso. Sottolineo questo aspetto per dire che non congresso vuol dire non costituzione in parte politica, perché di solito erano i congressi delle parti politiche, fossero esseri partiti o correnti di partiti o gruppi, sottogruppi nello schema classico della democrazia partecipativa. Noi siamo convinti e io in particolare ci ho scritto su un libro che è quello Oltre lo specchio di Alice, che questo meccanismo che è stato fondante della democrazia, esserci qualche idea o qualche programma e aggregarsi intorno a questo, registrandolo e misurandolo col voto come il presupposto per l'esercizio del potere che veniva conferito nell'ambito di un'organizzazione statuale o comunale preesistente. Questo meccanismo di trasferimento delle convinzioni e delle idee sul potere, sulla dose di potere a disposizione di chi vuole governare è un meccanismo che è entrato in forte crisi ed è entrato in crisi perché il tipo di potere che lo sviluppo delle società moderne domanda venga gestito dall'autorità non è più quello che era tradizionalmente conferito da una legittimazione a un posto, oggi è di moda parlare di poltrone, che faceva parte di una organizzazione stabilita con strumenti costituzionali eccetera. Questo meccanismo si sta rivelando incapace di risolvere, impostare, risolvere e gestire i problemi di una società moderna, sia essa vista a livello di globo, sia essa vista a livello di parte geografica, continente, oppure secondo lo schema tradizionale Vesfaliano che è ancora recepito dall'ONU delle Nazioni. Noi dobbiamo affrontare questo tema che il potere politico non è più costruibile, conferibile e distribuibile nei termini che sono stati alla base degli ordinamenti costituzionali più diffusi, perché essendo l'innovazione il vero problema da gestire nelle società moderne che sempre più divengono, l'innovazione essendo una dimensione in sostanza improbabile o imprevedibile e inconoscibile, il potere tradizionale affidato alla produzione di norme è molto spesso incapace di capire il tema, di predisporne la regolazione, di regolarlo. Ecco, questa è la ragione per la quale noi dobbiamo prendere coscienza che fare politica oggi vuol dire essere disponibili a atteggiarsi verso i problemi, verso il potere che deve contribuire a risolverli in un modo nuovo e diverso. In questo senso il sistema tradizionale di fare parte attraverso i meccanismi della corrente, del partito politico eccetera, sono giustamente già spariti e però non sono stati sostitutivi. La crisi che il Paese attraversa, la crisi formale che il Paese attraversa è una testimonianza lampante di questo, così come la coscienza che il Covid è in sé una innovazione del tutto sconosciuta all'organizzazione politica globale precedente è un'altra esemplificazione. Se vogliamo parlare di quali sono il tipo di innovazione che il sapere moderno propone, il caso del Covid è emblematico. Siamo tutti privi di esperienze politiche perché non pensiamo di poter affrontare il Covid come leggendo i promessi sposi e abbiamo visto affrontare la peste. Ci rendiamo conto che il tema è nuovo, ma non abbiamo l'organizzazione istituzionale e normativa per gestirlo. Conseguentemente facciamo fatica a costruire le parti politiche che nel gioco fra di loro governino i processi. Io credo che prendere coscienza da Milano, che indubbiamente resta il punto più esposto alle novità globali che la storia ci presenta, su come la politica è sfidata a esistere, a organizzarsi, a fare il suo lavoro, sia un tentativo faticoso ma da affrontare. Non è un tentativo attribuibile a una corenticchia o una parte politica, ma a un confluire di volontà direi storiche che se nascesse a Milano potrebbe dare a questo problema di come si va oltre lo specchio di Alice un contributo fondamentale. È chiaro che a questo punto nasce il problema e allora come si fa? Questa è la ragione sfidante di questa occasione nostra d'incontro che giustamente è stato chiamato non congresso. Non possiamo assumere che la modalità per affrontare questo problema nuovo possa essere quella di prima perché saremmo in contraddizione, ma non è che noi sappiamo oggi come al di là dello specchio è possibile organizzare il potere in modo da essere governante e garantente le volontà delle maggioranze e nello stesso tempo efficace e coerente. Questa è la sfida alla politica oggi, non a qualche politica. Per questo io credo che le persone riunite in questo che non vuole essere un congresso, e giustamente si chiama non congresso, è quello di elaborare questa questione che certamente è di metodo, ma proprio perché è di metodo è fortemente politica, perché l'essenza vera prima della politica è il metodo. Quando noi ci diamo una costituzione stabiliamo un metodo di convivenza, non i contenuti della convivenza. La politica deve sapere ritrovare questa sua funzione, di inventare un metodo per l'oltre lo specchio che la storia ci impone e nello stesso tempo all'interno di quel metodo trovare le mediazioni e le composizioni ottimali per il benessere sociale e civile.